Ho avuto il piacere di donare la nostra rivista, la rivista Kyogia, il numero che è appena uscito e colgo l'occasione per dire che verrà presentato pubblicamente il 30 giugno e quindi tutta la cittadinanza è invitata perché è un momento veramente importante, si celebra l'internazionalizzazione di Kyogia. Nella rivista abbiamo delle traduzioni in giapponese, del gemellaggio con il Giappone, l'ho portata all'ambasciata del Qatar e il ministro era veramente entusiasta di conoscere questa nostra realtà. Conosceva la città, l'ha definita la famosa Kyogia, però noi abbiamo dato uno spaccato reale, vivo e concreto e questo ovviamente ci riempie di gioia e di onore perché veramente possiamo dare molto e siamo molto apprezzati, devo dirlo. Grazie a tutti.